Come per il primo, anche nel secondo cura Abruzzo, il Movimento 5 Stelle ha avuto un comportamento responsabile. Abbiamo cercato di colmare quelle che erano le lacune di una legge che è arrivata in un modo ed esce dalla Commissione completamente cambiata. Non solo per il lavoro delle opposizioni che l'hanno certamente migliorata, ma soprattutto per la grande confusione della Giunta e della maggioranza. Abbiamo visto una Giunta di fatto assente, il Presidente del Consiglio ha fatto le veci di chiunque, le veci del presentatore nel presentare la legge, le veci degli assessori nel presentarci le coperture sulle quali in realtà abbiamo ancora dei seri dubbi. Il bilancio di questa legge è certamente un aiuto per gli abruzzesi al quale noi abbiamo contribuito, ma quello che ci lascia è una Giunta allo sbando. Molto probabilmente il Presidente di Regione, Marco Marsiglio, è troppo impegnato a fare l'opposizione al Governo Conte più che governare questa Regione. La disorganizzazione la pagano gli abruzzesi in termini di disorganizzazione della gestione dell'emergenza e delle ASL ancora, e dei tempi ancora lunghi, nonostante siano passati tre mesi per avere il risultato di un tampone, e i grandi ritardi, pensiamo alla Cassa Integrazione Inderoga e a questi fondi, ai famosi 1000 euro subito, che sarebbero dovuti arrivare immediatamente e che invece ci hanno messo molto più di un mese.